Stop distro hopping. Ma che cos'è e come si manifesta? Continui a cambiare distribuzione Linux in cerca della migliore, intrappolato in un perenne loop per mesi o anni? Magari vuoi esplorare tutte le opzioni, ma con così tante distro sembra un compito impossibile. Ecco come trovare una distro perfetta per te, una da tenere installata per anni, pur continuando a provare nuovi software. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Anche se è divertente installare e provare nuovi sistemi operativi, cimentarsi con una distribuzione ricca di funzioni che si adatti alle tue esigenze è molto meglio che girare perennemente senza fissa dimora. Tuffiamoci nel distro hopping e vediamo come metterci fine trovando la distribuzione perfetta. Cos'è il distro hopping? Il distro hopping è un'attività che interessa una parte di utenti Linux e li spinge a cambiare di frequente distribuzione Linux, per lo più allo scopo di trovare quella perfetta per le proprie esigenze. È differente dal desiderio e dalla sana curiosità di scoprire e testare nuovo software, per l'aspetto di perenne insoddisfazione che la caratterizza. Il distro hopping può infatti essere un hobby per quegli utenti che apprezzano provare differenti sistemi, testarne le caratteristiche ed esplorare il mondo sterminato degli OS Linux. La prima causa del distro hopping è la quantità innumerevoli di distro disponibili gratuitamente. Anche se sotto il cofano c'è sempre una versione differente del kernel Linux di Linux Torvalds, ogni distro è anche solo appena differente da qualsiasi altra in alcuni aspetti. Ci sono distribuzioni Linux per sviluppatori, musicisti, grafici, orientate alla sicurezza, alla privacy, all'hacking etico, al recupero di dati, all'analisi ed estrazione forense o per riavviare sistemi operativi compromessi e non solo Linux. Messa facile, le distro Linux sono un po' come i cioccolatini di Forrest Gump. Non puoi sapere quale sia il tuo preferito finché non li assaggi tutti. Il distro hopping non è una malattia e non fa del male a nessuno, ma ci vuole poco a ritrovarsi in una pratica ricorrente che ti risucchia e ti ruba tempo che potresti non passare al computer. Qualcuno passa mesi o anche anni ad installare le ultime versioni di distro nel computer, alcune volte anche 5 o 6 in multiboot nello stesso PC senza mai arrivare ad un punto di riferimento stabile. Ed ecco l'importanza di trovare una distro ideale cui ritornare fedelmente come a casa in cerca dei suoi comfort e delle piacevoli abitudini. Domandati perché continui a cambiare distro. Il primo consiglio che può aiutarti a sistemarti con una distro Linux è anzitutto riflettere sul perché salti da una all'altra. Forse vuoi un sistema stabile che non ti pianta in asso quando ti serve di più. O forse più adattate una rolling release per seguire da vicinissimo le ultime novità di Linux. Vanno bene anche ragioni che possono sembrare banali, come quella di avere una distro che nessuno conosce per risultare più sofisticato ed esigente con gli altri utenti Linux. Magari non apprezzi l'aspetto di una distro o semplicemente non ti piace il nome. Ma non ti fissare su dettagli minimi su cui potresti invece accettare compromessi. Rifletti anche sui problemi più importanti che trovi nelle distro che provi e che non ti soddisfano. Magari riguardano il gestore di pacchetti, la complessità di configurazione, la mancanza di documentazione sufficiente o non tradotta, un forum della comunità non vitale e frequentato, ecc. Farsi queste domande può aiutarti a restringere il campo di ricerca. Diciamo che vuoi un desktop minimo. Puoi scegliere una distro che non preveda un ambiente desktop ma solo un gestore di finestre, come quelle fornite con ISWM o OpenBox. Allora Archie o una sua derivata potrebbero fare al caso tuo. Ma Archie non è per deboli di cuore e dovrai affrontare qualche sfida anche solo per l'installazione o la configurazione iniziale. Non certo ideale se sei un principiante. Allora meglio provare un approccio semplificato, come quello di Endeavor OS, Garuda Linux e secondo molti anche Manjaro. Ricorda di aver presente la differenza tra repository Archie e repository AOR per essere consapevole e scegliere se usare sul software ufficiale testato, nel primo caso, o pubblico degli utenti, senza però controllo diretto da chi garantisce la base Archie. Fai un elenco delle tue esigenze e preferenze. Creare una lista delle tue aspettative per un sistema operativo ideale ti aiuterà ad avvicinarti alla meta. Puoi anche elencare i problemi che hai incontrato con quelli già messi alla prova. Ecco alcuni punti che potresti aggiungere alla lista delle tue preferenze. disponibilità di applicazioni dagli archivi ufficiali o integrativi. Difficoltà con il gestore pacchetti. Troppo tecnico per me o bisogno di qualcosa di semplice. L'ambiente desktop non mi soddisfa. Desidero un sistema minimo e scegliere singoli programmi che ci voglio. Voglio una distro che assomiglia a Windows. Voglio una distro che non assomiglia a Windows. Quando hai le idee chiare, il motore di ricerca avanzato di distrowatch.com ti consente di isolare in un attimo le distro ancora attive che rispondano o non rispondano a certi criteri. E puoi avvicinarti al traguardo anche procedendo per esclusioni. Ci sono centinaia di distro differenti, ma le principali sono o derivano da Debian, Arch Linux, Red Hat Linux o Slackware. Salvi i casi delle distro indipendenti assemblate da zero intorno al kernel Linux e non mancano elementi di assoluto rilievo. Hai conferma di questo dando un'occhiata alla timeline delle distro Linux su Wikipedia. Questa divisione è giustificata dal fatto che ciascun ramo differisce dagli altri per alcune caratteristiche. Per citare le principali, i gestori di pacchetti. Debian ricorre ad APT mentre Arch e Fedora usano Pacman e DNF per la gestione dei pacchetti. Modelli di distribuzione. Arch Linux segue il modello Rolling Release, il che significa che riceverai aggiornamenti a qualunque programma non appena gli sviluppatori ne rilasciano. D'altra parte Debian e Derivate o Fedora garantiscono supporto a lungo termine per le loro release stabili. Un altro buon elemento su cui dedicare attenzione per la scelta di una distro e per fermare il distro Hopping è quello di selezionarla in base alla quantità, ricchezza e facilità di consultazione della documentazione ufficiale. E se per te l'inglese non è il massimo, se essa sia tradotta e quando aggiornata. Dal momento che hai raccomandato scaricare un software dal sito ufficiale ti sarà facile identificare nel sito una sezione documentazione, wiki, knowledge, tutorial o simili. Debian è una documentazione ufficiale tanto ricca, aggiornata e tradotta in italiano da non avere concorrenti, consultabile online o scaricabile in sostanziosi e ricchissimi PDF. Le distro che talvolta lasciano a desiderare sulla documentazione ufficiale hanno spesso un wiki, una specie di enciclopedia in perenne sviluppo con il contributo non ufficiale ma della sua comunità di utenti. Arci ha un wiki che è una miniera di informazioni per utenti Linux di distro anche differenti da quelle su base Arci. Ubuntu, Linux Mint, MX Linux e PC Linux OS, Linux Lite, per citare solo le prime cinque che mi vengono in mente, hanno un seguito di utenti appassionati molto nutrito. Questo contribuisce a garantire maggiori possibilità di trovare assistenza e aiuto nei relativi forum. Perché la generosità di utenti soddisfatti nel risolvere i problemi altrui non ha prezzo. Trova l'ambiente desktop per te. Una volta compresa quale sia la distro da adottare stabilmente più adatta a te e non prima, è il momento di scegliere l'ambiente desktop. I più popolari sono KDE, Plasma, GNOME, XFCE, Cinnamon, MATE, LXDE, LXQT. In linea di principio e con dovute eccezioni scegliere la distribuzione Linux in base all'ambiente desktop non ha molto senso. Qualunque ambiente desktop, o quasi, è disponibile nativamente con le distribuzioni Linux più affidabili. L'eccezione riguarda i casi ad esempio di Solus con il suo Bagi, Deepin con il suo DDO e Pantheon in elementary OS, che sono il miglior modo per provare con esperienza soddisfacente un ambiente desktop nella distro per cui è stato previsto. Ma anche se l'ambiente che ti è più familiare è una scelta importante, non deve essere questa ad orientare la selezione del sistema operativo. Riuscito a fare un po' di ordine nel caos di idee da distro-oper? Hai trovato un luogo che consideri casa a cui torni fedelmente dopo le esplorazioni di altri sistemi e software? Facci sapere tramite i commenti. In ogni caso ti auguro di provare presto la sensazione di casa in una distro, come succede a me ma anche a tanti altri utenti Linux, ma anche di non perdere mai la curiosità di provare il nuovo software. Grazie per la visione e a presto!